Da lui mai nessun problema, veniva da me, barba fatta, vestiti puliti, non ha mai dato in escandescenza o avuto litigi con altri pazienti che erano in attesa, qualche volta ha portato anche dei regali, delle barrette di cioccolata e quanto ha riferito in aula al medico di base che ha avuto per anni in cura Claudio Campiti, l'uomo che nel dicembre 2022 ha compiuto la strage di Fidene a Roma uccidendo quattro donne nel corso di una riunione di condominio. Si tratta del medico che ha affermato ad avere 38 anni di esperienza e una specializzazione in odontoiatria, ad avere rilasciato all'uomo imputato davanti alla Corte d'Assise della Capitale per omicidio volontario plurim e porta abusivo d'armi diversi certificati di sana e robusta costituzione per il poligono di tiro, che comprende anche la capacità di intendere e di volere. Su quest'ultimo punto, sollecitato dai pubblici ministeri, il testimone ha affermato che nella storia clinica di Campiti, almeno dal 2016, non ha mai prescritto calmanti, ansiolitici o un farmaco coadiuvante dal punto di vista psichico. Il suo comportamento non denotava situazioni di allarme particolare.